Ma siamo pronti? Ma poi dobbiamo partire? E beh beh partiamo. Giochiamo di anticipo amici, benvenuti. Il mercato è finito. Basta, ma il mercato è chiuso. I fantastici quattro sono arrivati, stanno andando pure Gaetano, Demme non so che fine farà, e poi di questo ne parleremo. Come giocherà il Napoli con il Verona? Come giocherà il Napoli per questo prosieguo del girone di ritorno? 3-4-3, 4-3-3, 3-5-2. A che gioco giocheremo? Non si sa, non lo so. E che succederà col contratto di Zerischi? Cosa succederà col contratto di Guaraschelia? Come che fine farà Demme? Ha rinnovato Politano? Insomma ragazzi di tutto e di più questa sera qui a Giochiamo di anticipo. E pensate che per l'occasione, proprio perché dobbiamo parlare tattiche, situazioni eccetera, apposta pagato proprio fino all'ultimo centesimo o dovuto proprio altro che mercato, Rambo Rambaudi qui. Rambo Rambaudi qui stasera per raccontarvi e raccontarci come giocherà il Napoli. Tanto non stavamo anche Rambo Rambaudi. Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo subito qui a Giochiamo di anticipo. A tra poco. Napoletano, Sara! Sara Napoletano, star casino sport. Arriva, arriva. Canà! Indovini chi le ho preso. Chi? Ma? Ma? Mara? Mara, c'è mia moglie. Maradona. Maradona? Maradona! Maradona! Ma lo sa che attraverso la... Ma che cosa? Ma che il mercato, che cos'è? Maradona! Maradona! Grandissimo, Natura del pallone. Come al solito noi scherziamo. Benvenuti, amici di Giochiamo di anticipo. Non potevamo oltre iniziare che in maniera diversa col mercato che è finito un'ora e dieci minuti fa. E che è successo, caro Gennaro Arpaia? Maradona benedetta dell'incoronata. Maradona benedetta dell'incoronata. Il Napoli l'ha fatto il colpo alla fine, nell'ultimo minuto, in uscita però. Perché abbiamo salutato Gianluca Gaetano che è andato a giocare in prestito a Cagliari. Ma perché si è andato a Gaetano? Me lo devi spiegare tu durante questa trasmissione. Quindi io ti dico soltanto quello che accade. La cronaca. È andato a Cagliari. Stretta cronaca. Che giocherà per i prossimi sei mesi. Prestito oneroso, ma secco. Quindi tornerà. Oneroso, insomma. Oneroso. Per quello che può permettersi il Cagliari e per quello che può permettersi questo affare. E chiaramente tornerà a fine stagione per tornare a indossare i colori azzurri. Ha fatto anche un bel saluto sui social Gianluca. A cui auguriamo di giocare a questo punto tanto. Almeno. Nei prossimi sei mesi. Però sono successe. Sei, sono cinque. In febbraio. Sono successe. Tante cose in questi giorni, in queste settimane di mercato. Quindi insieme con voi cercheremo di analizzarle stasera. Giocate con noi sulla nostra pagina Giochiamo d'Anticipo perché abbiamo preparato in particolar modo due instant quiz che vedono voi protagonisti. Non avevo dubbi. Ancora di più rispetto alle altre serate. Al Belucano buono tutto a posto. È andato tutto bene. Ci siamo divertiti molto. Non avevo dubbi. Tu come sei stato? Io sono stato benissimo. Mi ho visto in televisione. Eravate uno spettacolo. Grazie. Eravate illuminati d'immenso. Allora, saluto. Ho avuto paura per un attimo. Ma che ridete. Illuminati di... Allora, Francesco Modugno, abbronzatissimo. C'è già il sole del gennaio che brilla a Castelvolturno. Parleremo di questo mercato. Gianluca giocherà di più. Già il nome suo è un merito. Già il fatto che si chiama Gianluca Gaetano. Si è speso dell'Aurentis affinché fosse garantito un minutaggio serio. Perché quando uno cede un giocatore e dice alla società tu me lo devi far giocare. Ci sta. Ci sta. Ci sta. L'ha garantito Giulini. Gaetano poteva scegliere. C'era mezza Serie A. C'era l'opzione Granata. Anche l'Empoli. L'Empoli, ci ha provato il Frosinone, la Saenetana, il Lecce, il Verona. Ma quanti centrocampisti siamo noi? Tutto questo? Abbastanza. Quindi, per capire, dell'Aurentis, oltre a consigliare le formazioni... Abbastanza poco. Ciccio, un momento. M'ho stato... De l'Aurentis, da quello che ha detto Modugno, oltre a consigliare le formazioni alla propria squadra, le consiglia anche a quelle a cui vende i calciatori. Perché dell'Aurentis sempre consiglia le formazioni alla propria squadra. Sto cercando di capire. Sto cercando di capire. Però ci sta che un presidente tuteli il proprio patrimonio. Te lo do in prestito, ma me lo fai giocare. Ah, una cosetta. Che succede? Rummenigge. Sì. Rummenigge. Non lo vedrà, quindi... Sì, non lo conosce, come dice con Vargas. Benvenuto, Rambo. Ciao, Gianluca. Buonasera a tutti. Sei di un'eleganza imbarazzante. Posso dirtelo questo? Spicchi, ovviamente, rispetto a noi, poveri, voglio dire, giovani, virgulti che frequentano questo studio. Ti ringrazio di essere qui stasera. Grazie a te. Perché io ho chiesto alla grande produzione, ovviamente, che stasera dobbiamo un attimo proprio pendere dalle tue lampre. Stasera ci sarà grande dibattito. Io devo capire qua com'è la situazione. Non ho capito niente. Io non ho capito cosa succede. Se Napoli gioca a 4, se Napoli gioca a 3. Chi sono i centrocampi? E' sempre il discorso. E' sempre il discorso. E' molto sempre. E non ti muoveremo, arrivo da te. Anche perché Ciccio... Eccolo qua, Ciccio. Ciao, Ciccio. Computer portatile. Computer portatile. E qua c'è tutta la formazione, ve lo dico. Abbiamo un 4-2-3-1, un 3-4-3-5-4-3-2-1-tombola. Ciao, Ciccio. Bene arrivato. Ciao. Ben arrivato Ciccio Marolda, siamo pronti, siamo tutti prontissimi. Andrea Amato è in cabina di regia, pronto con la sua lavagna magica. E siamo assolutamente pronti. Giulio Tammaro in regia, tutti pronti. Fatemi salutare però gli amici sponsor che ci accompagnano in questa splendida nostra avventura con l'Igiene Urbana Evolution, con Tufano, con Star Casino Sport, con il gruppo Autoscala. Rispondoio.it. Ragazzi, novità. Rispondoio.it. Più me, ad hoc che Schencheri, Energas, Schiano Automobili, Terra Adora di Paolo e banca di credito cooperativa. Abbiamo ricordato, Gennaro, la nostra pagina Facebook. Sì, giochiamo ad anticipo, mi raccomando, tenetela lì sullo smartphone perché tra poco arriviamo con le nostre domande. Rispondoio, è sicuramente il nostro nuovo partner, lo salutiamo, ma mi sembra anche un partner che richiama un po' le parole di De Laurentiis di qualche settimana fa. No, rispondo io di tutte le colpe che ci sono in questo momento, ma con il mercato e con il lavoro di Mazzarri si vedrà poi sicuramente un Napoli migliore. Diciamo che il mercato, almeno da questo punto di vista, aveva promesso un difensore, è arrivato tutto fuorché il difensore. Questa è storia, questo lo dobbiamo dire. Noi sentiamo da gennaio... Era la priorità, era la richiesta fortemente insistita di Mazzarri, era il grande investimento pronto per Dragosini, i 35 milioni messi sul piatto. Poi avrebbe preferito tante. Era Teatre, era Perez, poi il Napoli si è messo a tre, Ostigard ha dato segnali incoraggianti. La domanda è una sola, innanzitutto fatemi vedere il titolo, perché la domanda è secca. E io perciò inizio da Rambo. Supermarket Napoli chiuso per ferie, nel senso che in ferie è chiuso, cioè non è che è chiuso. Sì, vuoi cantarla tutta? Preparate. Modugno potrebbe. Modugno potrebbe. È la settimana di Sanremo, Modugno ha una wild card. Preparatevi per Sanremo, perché quella di giovedì prossimo sarà una puntata che rimarrà nella storia. Allora, voglio chiedere una cosa. Innanzitutto però do la palla a Gennaro, perché a questo punto chiediamo immediatamente il giudizio. Mercato chiuso, quattro ne entrano, poi settecento ne sono andati altrettanti in prestito. Tutti e quattro in prestito, giusto Gennaro? Che cosa vogliamo chiedere a questo punto? C'è la cessione di Elmas. Elmas Kong, sì. Elmas Kong, cosa vogliamo chiedere? Allora, a mercato chiuso, come diceva Gianluca, si è chiuso un'ora e diciassette minuti fa, quale voto dareste al mercato del Napoli? Avete un quarto d'ora per votare, sulla nostra pagina Giochiamo d'Anticipo, grazie all'Igiene Urbana Evolution e al nostro Instant Quiz, che voto date al mercato invernale del Napoli? Da 1 a 10? Da 1 a 10 come a scuola, quindi potete fare quello che vi pare. Io prima di chiedere il voto a voi, stavo andando secco su Rambo, su Rambaudi, perché tu mi hai parlato di Ostigard, posso fare una domanda secca? Ma proprio, cioè è possibile che Ostigard resti a Napoli soltanto perché ha giocato bene con la Lazio? Cioè può una società, un tecnico, una gestione, decidere che è meglio tenere Ostigard che ha giocato bene con la Lazio? E le altre anni e mezzo che ha giocato Ostigard, che cosa ha fatto? Rispondete con un sì o no? No, ragazzi, questa è una domanda, scusatemi, ma è legittima, ma la posso chiedere? Premesso il fatto che noi siamo tifosi di Ostigard, che a noi Ostigard ci piace, che è un difensore che ha le stimmate del difensore, come racconta ovviamente anche il nostro amico Enrico Fedele, ma può decidere con Ostigard che era già in partenza soltanto perché il Genoa ha preso a Cittadini e rimasto... Scusami, io sono su questa cosa... No, 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 io premetto una cosa che io ho detto, ho sempre detto che il Napoli non ha, ma per il gioco che faceva non aveva dei difensori di alto livello, ok? Ok. E c'è anche Ostigard in questo gruppo. Però siccome sono stati fatti nei passi davanti da parte di Mazzari, quindi grande responsabilità e grande merito di questa, secondo me, di cinque passi davanti che sono stati fatti, e di Mazzari nell'aver cambiato modulo, e questi giocatori, i tre, Juan, Rachmani e Ostigard, in tre a occupare l'area di rigore, in tre, barra cinque, sono più bravi a interpretare questo tipo di ruolo, più sicuri, più consapevolezza, e sono diventati importanti, secondo me, in questo momento. Detto questo, andare a prendere un difensore, il mio voto era sette per il mercato, se prendevano un difensore. Siccome non l'hanno preso. Non l'hanno preso, è un sei, però... È sufficiente. È sufficiente. Si è mossa bene in determinati ruovi, nelle alternative. Io credo che andare a prendere Perez, per mandare via Ostigard, il gioco non valeva la candela, ok? Perché l'ho visto tre, quattro partite, non mi ha entusiasmato molto, devo dirti la verità. Quindi Ostigard vale Perez, a mio modo di vedere. Questa è la mia idea. Fatto sta che però Mazzarri va davanti con questa sua idea di calcio, che è credibile, col 4-3-3 non è credibile lui, nei confronti dei giocatori. Stai già anticipando, quindi, quello che sarà un nostro approfondimento dopo? Deve andare avanti così, con questa, perché ci sono tante opzioni che il 3-5-2, il 3-4-3 ti può dare, mettendo degli interpreti che possono fare anche altri ruoli nella stessa partita. Poi vado ad analizzare tatticamente. Parliamo prima sul mercato, perché abbiamo lanciato l'instant quiz con Gennaro Arpaia, e quindi voglio capire la valutazione anche di Francesco, di Ciccio, lo stesso Gennaro, per capire come si è sviluppato. Ho detto un'eresia a Ciccio nel pensare che Ostigard era già praticamente andato, che se il Gennaro non avesse occupato la casella con cittadini, Ostigard andava da quelle parti? No, è assolutamente così. Questa è una delle ragioni per cui poi non si è fatto nulla. L'altra è che Ostigard ha rifiutato di andare dove poteva andare, cioè a Udine. C'entra sicuramente il fatto della difesa 3, che è una scelta tecnica. e poi nella valutazione secondo me c'è anche tra Ostigard e Perez. Che cosa ti può dare, avrebbe potuto darti Perez in più rispetto ad Ostigard? Perché Perez valeva 18 milioni Ostigard di meno? No, Perez secondo me con la palla sul piede quando non deve marcare ha qualcosa in più di Ostigard. Ma è tutto qua secondo me. C'ha un po' di classe in più. Però non so se resteranno i tre per tutto il tempo oppure come suggerirà qualche partita o l'andamento di qualche partita cambierà anche la difesa. Cosa non ha auspicata da... Voto di mercato 6 perché sono stati presi due giocatori che potevano servire se decidi di dare via Zanoli per farlo giocare di più hai preso Mazzocchi Mazzocchi che ti può essere utile anche dall'altra parte hai preso Gong che onestamente è un giocatore interessante un buon prospetto per gli altri due Francesco lo sviluppo di questa situazione al denaro della valutazione poi finale del mercato che siamo curiosi di capire anche a casa che cosa... La mia grande sfida è provare a sintetizzare in maniera... E già questo voglio dire è un bel... Però un minutino te lo chiedo. Veramente ne hai facoltà proprio senza nessun tipo di dubbio. Perché... perché si arriva a questa scelta? Parliamo della scelta di tenere Ostigart? Di tenere Ostigart. La priorità era il difensore. Ripeto, era la richiesta forte fortemente insistita di Walter Mazzarro. L'identikit era... Già questo... Scusami se ti interrompo è un calcio di rigore a porta vuoto. Cioè già questo mi dici... Cioè Mazzarri vuole il difensore e la società non gliel'ha dato. L'identikit era. L'identikit era. Difensore rapido, ben strutturato fisicamente, bravo di testa. Perché ripeto, il Napoli è la società mediamente con i centimetri minori di tutta la Serie A. La scuola più bassa è Italia. Non c'è dubbio. E quindi c'era bisogno di un profilo di questo tipo. E vedi Dragosin, vedi Teatre, che è il giocatore che nel Bologna ha fatto un sacco di voti testa. Da qui, da qui, da qui, i 35 milioni per Dragosin. Che fa la sua scelta, arriva alla Premia. Dice no al Bayern, dice no anche al... Che erano sproposito, comunque 35 milioni per Dragosin. Da qui, però lì in Premia sono abituati a pagarli 100 milioni. Se le B di 35 erano bravo, loro hanno fatto l'affare. L'affare l'ha fatto Dragosin. Da lì, da lì, l'indicazione di Mazzarri. Se dovete prendermene uno, secondo me Teatre è bravo. Però, qual era uno degli intoppi in quel momento? Il Napoli giocava a quattro. Con Teatre avreste avuto tre mancini su quattro. Ora, chi fa un po' pallone sa che tre mancini su quattro abbiamo un maestro qui. Sono troppe. Sono troppe. Sì, sì, perdi un tempo di gioco per le giocate che devi fare, sicuramente sì. Ci sta che tu ne abbia tre destri, un mancino, ma tre mancini, perché il mancino a destra si adatta poco, insomma, sarebbe stato, diciamo, un assortimento poco armonioso. Ti sto seguendo, vai. Da lì si arriva a Perez, che il Napoli di fatto prende. Contratto, fatto e firmato dall'Udinese. Contratto, fatto e firmato dall'Udinese. Mancava solo il timbro di De Laurentiis. Poi accadono un po' di cose. Il Genoa prende il difensore, Ostigard non ritiene opportune per lui alcune opzioni prospettate. Perché c'era l'Udinese, c'era il Torino, all'estero aveva qualche altra soluzione. Il Napoli va a Roma con la Lazio. Nel frattempo, il Napoli che giocava a quattro si mette a tre. non solo a Roma, l'ha fatto anche prima. Ed era il sistema sul quale ormai da settimane, o diciamo da un bel po' di giorni, Mazzarri stava lavorando. Io ti sto supportando nel racconto, perché ti supporto, l'ho detto martedì sera. Ostigard fa bene, fa bene. E da lì ci sta una riflessione generale con in testa del Presidente di questo tipo. ma tra questo Ostigard e Perez c'è uno spread, c'è un differenziale di 10-11 milioni più Ostigard e via? Risposta all'unanimità? No. E quindi? La questione si chiude così. Resta Ostigard. Non viene il difensore, non è detto però, per esempio, che il Napoli col Verona continui a giocare a tre o a cinque. E già mi vuoi anticipare e magari nel frattempo il Napoli è tornato seriamente a lavorare anche sui quattro. Ecco qua, calma, calma, state calmi. E qua è la chiave di tutto. Sì, dovete stare calmi, dobbiamo finire un attimo. E qua è la chiave di tutto. Eh lo so, dobbiamo finire, e anche perché volevo supportare il tuo perfetto racconto, la perfetta ricostruzione, facendo un piccolo passo indietro quando a un certo punto se tu credi che quello che io stia dicendo non risponda alla verità, ve lo puoi dire tranquillamente. o che abbia tu un'altra versione, o Ciccio o Rambo, a un certo punto Mazzarri, dopo un certo tipo di percorso, va dal presidente dell'Aurentis con grande coraggio, con grande dignità professionale, presidente, qua, io ho intenzione di cambiare modulo. Tu, abbiamo parlato del 433, vengo qua, la situazione non va bene, sappi che vedi Cagliari, Napoli-Cagliari-Zerbin a destra, piccoli accenni, a Torino, se Mazzocchi non si fa spendere, già lui, ti posso interrompere una cosa, già il fatto che l'allenatore vada dal presidente e dica, presidente, guardi che voglio cambiare modulo, non esiste. Eh, ma quello glielo doveva dire, però, no, 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 però, però, no, no, Rambo, no, 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 però, ci sono i ruoli ben definiti, che il presidente vada lì, mister, che fa, e allora, sì, è una cosa, ma che tu vada da presidente, però anche qui, e qua il discorso, qua non si deve cadere sulla buccia di banana, il discorso è, se Mazzarri torna a quattro, i problemi dietro diventano dei giocatori normali di nuovo tutti, se non mediocri, questo è il discorso, però, 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 ho detto una cosa sbagliata, però, al di là, al di là del, e De Laurenti, se ti aggiungo, mister, ovviamente, tu fai come richiede, un sogno opportuno di fare, fai come richiede, non potete fare, chiaro, giusto, però ti dico, però ti dico, allora, in quel momento c'era una priorità, che era ritrovare, una certa solidità, una compattezza, un'identità, non dare occasione all'avversario, uno spirito di squadra, valorizzare l'individualità, che hai dietro, e quindi, Mazzarri, che è allenatore vero, capisce che magari, mettendosi a tre, a cinque, ritrova equilibri, che questo Napoli, non aveva più, da messi, che ne parli col presidente, sì, idealmente, come dici tu, però noi dobbiamo anche capire, che, questa è una stagione particolare, se mi si fa, eri campione d'Italia, giocando un calcio meraviglioso, in un certo modo, il presidente, sceglie un allenatore, García, facendo come è suo, lo slogan, continueremo a giocare alla spalletta, il Napoli deve aprire un ciclo, il ciclo del 4-3-3, arriva Mazzarri, arriva Mazzarri, che onestamente, ti dico, ritiene che questa squadra, possa giocare così, e ci mancherebbe, ma soprattutto, possa anche essere questo, il suo calcio, decide di cambiare, ci sta che ne parli col presidente, e chiudo dicendoti, adesso, se torno al 4-3-3, non è una biura, delle proprie convinzioni, è eventualmente, la considerazione, eventualmente lo facessi, qualora lo facessi, aspetta, è un boomerang, attenzione, è pericoloso, faccio velocissimo, molto pericoloso, il tuo minuto, sono come i chilometri brasiliani, è che un allenatore, deve valorizzare, tutto l'organico a disposizione, è vero che, sulla difesa, abbiamo prima detto certe cose, ma nel frattempo, c'hai, lì davanti, otto attaccanti, ascolta, c'hai, no, ascolta, Francia, ascolta un attimo, il discorso è, il discorso è, tornare a 4, e il Mazzari tira il boomerang, e gli arriva in testa, perché? Per due cose, una, che questa squadra ha bisogno di cambiare, pensare calci in maniera diversa, e l'ha dimostrato, cambiando modulo, in Arabia, e anche con la Lazio, e, ha bisogno, e Mazzari deve essere credibile nel gruppo, se torna a 4-3-3, è sempre paragonato a quello strategico, a quel visionario di Spalletti, non è possibile, basta, adesso ha trovato questa chiave, deve andare avanti così, perché se no tornano i problemi, che c'erano in passato, di una difesa mediocre, con quegli uomini che ci sono, vulnerabile, non in grado di fare quel tipo di calcio, nella metà campo versaria, adesso, io te la ribasso, io te la ribasso, e se invece, ciccio, andiamo da ciccio, e se invece, potessimo e dovessimo cogliere, anche il buonsenso, di Mazzarri, di intercettare, quella che può essere anche, un'esigenza generale, di giocare un calcio diverso, che questa squadra sente, sente proprio, ma lo può fare così, lo può fare così, gli lo do io stasera un indizio, vai, glielo do io, glielo do io, come farei giocare io la squadra, guarda, specialmente come c'è, può giocare parecchie situazioni, giocando i tre, vuole giocare con i tre davanti, benissimo, gioca anch'io, farei Politano, Osimè, Simeone, quello che sia, però, quando ci sono tutti, Osimè, Equara, bene, gioco 3-4-3, 3-4-3, con, posso giocare alcune partite, anche il 3-5-2, però il 3-4-3, tolgo Politano, 3-5-2 ovviamente, però, posso giocare con Di Lorenzo, centrale, che mi diventa in possesso palla, il centrocampista, e in posto una due, e così, con la botta che si abbassa, e Di Lorenzo è intelligente, nel fare quel tipo di gioco, con Anghissà, che parteva a fare, dietro il 3-4-3, e mette in difficoltà il Verona. Rambo, ma se c'è stato, adesso vado, cambio tutto. Ma se un giocatore, ma se un giocatore come Di Lorenzo, è diventato, è diventato, uno dei migliori interpreti, della fascia. Da esterno. No! Da esterno. Aspetta, no, 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 io ti dico, no, aspetta, no, non puoi dire così, non puoi dire così, e dico così. Ah no, aspetta! Fammi figlio, che magari a caso sei bravo a leggermi nel pensiero, gli altri magari... Ma un discorso è interessante, uno alla volta. Se Di Lorenzo, anche il gioco giochiamo. campione d'Italia, celebrato da tutti, con valutazioni di mercato enormi, oggi Di Lorenzo può andare a giocare dappertutto, dove vuole, e probabilmente questa estate ci avrà la fila, ma permetti che magari anche lui possa avere il piacere, il gusto di riconoscersi magari in un ruolo che è il suo, che è quello d'esterno. Ma perché devi fare il difensore? Ma perché? Ti smentisco subito. Lui, anche... Non devi andare, un momento, ciccio, fai finire un attimo questa cosa. Posso? Perché mi fa alterare. No, 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 mi fa alterare. Non hai detto niente fino adesso, vai. No, il discorso, poi mi taccio, me ne vado. Dove avere andato tutti quanti qua, che dobbiamo fare la trasmissione? Voglio dire, tu stai dicendo, il migliore interprete della fascia, il migliore in alcuni momenti la fa, ma Di Lorenzo è quello, l'anno scorso anche con Spalletti, che giocava più palloni a metà campo. Perché? Ma perché io ti ho detto questo? Non è che me lo sono inventato io, che sono così. Ho visto il Napoli l'anno scorso e ho visto che Di Lorenzo andava a fare la mezzala al posto di Anghissà quando si allungava. E quindi ti dico questo, gioca più palloni in mezzo al campo, puoi fare delle sovrapposizioni sull'esterno. un momento, un momento. E' questo discorso che Di Lorenzo può fare in fase di un po' di... come faceva l'anno scorso, rientrava nei quattro, faceva il difensore, e in fase di possesso palla si mette a fare il centrocampista. Per favore, cambiamo titolo. Un attimo, cambiamo titolo. Mettimi a che gioco giochiamo. Voglio cambiare tutto. Dobbiamo cambiare tutto perché la... Non sarebbe male. Non sarebbe male. Se tutti quanti vengono a fare il gioco giù. Eccetto Arpaia, abbiamo tutti quanti... Notare, notare, va bene. Allora, calma. Arpaia è giovane. Dobbiamo cambiare tutta la scala. Notare nella melma in questo momento che sta la situazione. Dobbiamo cambiare la scala. Però completiamo... Abbiamo l'obbligo di leggere il nostro instant quiz. Se la regia ci manda il gong, noi leggiamo anche il risultato finale. Dobbiamo fare tutto, devo far vedere una cosa. Devo far zara... Sì, gong, gong, con il 25% dei voti vince il 5. 5. Però ci sono stati voti molto disparati. Addirittura, tre tifosi, perché li riesco a contare da qui, hanno votato 10. 10. Chi sono? Aurelio de Laurentiis. Il finito de Laurentiis. Ti lascio capire perché. Per esempio, Giovanni Festa ci scrive il mercato che ha fatto il Napoli è da 10. Tanto è inutile buttare inutilmente il denaro. È il mercato di gennaio dove le grandi occasioni si contano sul palmo della mano e poi a giugno sarà zerato tutto. A rinforzare il discorso, per esempio, arriva il commento di Angelo Ciardillo che ci scrive voto 7 perché il difensore dell'Udinese sarebbe Perez non valeva quei soldi lì perché se giochi a tre c'è Ostigad che va bene, se giochi a quattro c'è Di Lorenzo, adesso rientra Nonatan, rientra Olivera, dimentichiamo che c'è anche Den Donker, con Mazzocchi è stato fatto un ottimo acquisto e poi ovviamente siamo già nella seconda parte del campionato. Quindi molti tifosi diciamo che guardano, hanno guardato questo mercato invernale con una fiducia al contrario, cioè tanto la seconda parte dell'anno arriviamo a giugno e azzeriamo le cose. È arrivata anche una domanda da parte di Gianfranco che ci scrive, anzi vi chiede, visto che sono arrivati i giocatori come Traorico, come Ngong, ci dobbiamo aspettare anche qualcosa per Paraschelia oltre che per Osimeni in estate? È Arpaia, dì all'amico un momento, voi dei contratti parliamo dopo, ma dobbiamo fare che gioco giochiamo? Con Gioca Gioe, dobbiamo fare che gioco giochiamo con gli schemi. Allora ti mettiamo in stand by Gianfranco. Vogliamo anche lanciare il prossimo instant quiz o vogliamo andare prima da Nicola Schia? Che cosa? Andiamo prima da Nicola Schia. Andrea facciamo prima Nicola Schia. Ah, lo vuoi spostare? Eh, poi spostiamo Schia. Allora per favore, grafica, grafica per favore Arpaia con le tre formazioni del Namo. Sì, allora, questo in realtà non sono le tre formazioni Rambaudi, alzati. Non sono le tre formazioni che ci aspettiamo. Alzati al cammino. Caro Rambaudi, dove sta il 3-4-3? Eccolo là. Non sono le formazioni che ci aspettiamo domenica, queste sono le eventuali possibilità con i nuovi acquisti. 3-4-3, spostati un poco di là. Cioè, Mazzocchi può giocare chiaramente a destra. Adesso ci spiega Rambaudi. Rambaudi dove può giocare. Regia, per favore, inquadratura sul Rambaudi che ci spiega il 3-4-3. Grazie. Vi dico anche le giocate. Rambaudi, però mettiti al contrario, a favore di te, da quest'altro lato. Mettiti da qua. Mi sposto io. Di qua? Di sinistro che non è fatto. Ah, ok, ok. Va bene. Ok, vai. Allora, io credo che anche, specialmente nella partita col Verona, giocare con Di Lorenzo, che parte dalla fase difensiva in fase di non possesso, con un riferimento che hanno solo loro, con un trequarti che gioca 4-2-3-1, dovrebbe giocare. Di Lorenzo diventa il centrocampista giunto in fase di possesso palla. Quindi diventa, vogliamo parlare di numeri, 2-5-3? Non mi interessa. Chiamatelo come volete. Se possiamo spostare. Di Lorenzo è il posto di Mazzotti. Dobbiamo occupare in ampiezza campo tutte le zone coperte. Bene. E ce l'abbiamo qua. Abbiamo Juan Jesus che mi sta piacendo molto per come conduce la palla, per come crea superiorità, per il passaggio filtrante. E quindi sulla giocata di Juan Jesus, dove lo botca, sempre si abbassa a prendere riferimento. Giocata su Quara che taglia sull'esterno, Mario Lui va, può avere sempre l'appoggio, il taglio di Osimene, il taglio di Politano, l'ampiezza campo. Sfrutta le qualità individuali nel collettivo. E questo è il modulo ideale. Perché? Perché l'allenatore ci crede pienamente e lui è il maestro di questo 3-5-2, 3-4-3, 3-4-2-1, chiamatelo come lo avete. I giocatori sanno che l'allenatore è credibile per quello che propone, non è credibile sul 4-3-3. Perché c'è sempre un Dio che spalletta. 4-3-3, vai da questa parte. Voglio dire per gli amici, un momento, allora a calcio a Napoli non giocheremo mai più 4-3-3. Abbiamo l'icona di Spalletti lì che è espleno. Devi avere gli uomini, dietro non ce l'hai. Non ce l'hai. I quattro non ce l'hai. Perché c'è i difensori lenti, macchinosi e non sono dei giocatori difensori di grande livello. Non ce l'hai perché tu devi andare a fare la partita nella metà campo avversario. Rambo, non ce li hai come li vorresti tu, ma non è che non puoi giocare 4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 scusatemi ragazzi voglio dire per gli amici a casa che stanno seguendo questa cosa clamorosa che stiamo facendo aspetta Gianluca ma al 4-3 non si può giocare hai giocato fino a due ore fa al 4-3 quest'anno e che risultati ho tenuto infatti ma con i risultati devi ottenere ha dovuto cambiare ha dovuto cambiare perché i risultati non ci sono i nomi sono indicativi infatti avanti c'è Osimena i nomi sono indicativi c'è un'ipotetica formazione 4-3-3 con Mazzarri il Napoli ha fatto 70 minuti da padre eterno contro l'Inter è andato a Madrid e ha fatto una partita dignitosa ma perché non può giocare ma scusa ma se c'erano i risultati c'erano le prestazioni facevano gol ma perché doveva cambiare ha cambiato perché c'erano dei problemi io voglio considerare una ricchezza rispetto a te la possibilità di mettersi a 3-5 ma anche a 4-10 una ricchezza una ricchezza se io ho fiducia dietro nei miei giocatori e io non ce l'ho in questi difensori che ho dietro giocando 4-3-3 scappando all'indietro difendendo ha spiegato tecnicamente Ciccio prego scusami Ciccio quando è cominciata la trasmissione avevo le idee abbastanza chiare non avevo dubbi a questo punto a questo punto non sono più tanto sicuro però Rambo ha dato una spiegazione no no aspetta io credo che stiamo facendo un discorso di lana caprina perché dipende dalla posizione che un giocatore assuma in campo il ruolo lo determina la posizione questo è chiaro allora a quel punto puoi giocare a 3 poi si abbassa e diventa 4 oppure puoi giocare a 4 e uno parte meglio ancora e diventa centrocampista quindi io penso che Mazzarri che non è così integralista sicuramente abbia in mente proprio questa posizione questo disegno cioè quello di un 3 e mezzo non diventa 4 fisso o 3 fisso ma un 3 e mezzo perché Napoli ha bisogno scusami è quello che ho detto io guarda 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 guardate il discorso è quello che hai detto tu è giusto perché secondo me io e i miei giocatori dico il ruolo non lo dico io non determina la posizione in campo perché se Di Lorenzo palla al piede o non palla al piede viene dentro al campo ma Zocchi si abbassa Anguissa si allunga diventa 1 2 3 4 giusto? allora se poi in costruzione io voglio tenere l'ampiezza campo e densità in mezzo a lungo e a largo Mazzocchi a lungo e a largo Mario si mettono in linea con gli attaccanti e diventa da coprire tanta roba con i giocatori che hai dei palleggiatori ma sono meccanismi abbastanza semplici semplici da dire da fare visto che c'è stata questa disamina completa fin qui però sono fondamentali in questo gioco fin qui abbiamo visto proprio per la varietà di opzioni e io ripeto considero una ricchezza quella che sta dando Mazzari in questo senso abbiamo visto i 4 4 veri abbiamo visto i 3 e mezzo per esempio con il Monza abbiamo visto i 5 quasi pressoché bloccati a Roma con la Lazio quindi queste soluzioni il Napoli le ha mostrate tutte ma non le hai mai fatte al completo e questo è una cosa da per quello ti dico che il Napoli è l'indiziata numero 1 per andare a ottenere il quarto posto perché attenzione è una squadra per me è una squadra forte così che rientro Simenti Quara Politano stiamo dimenticando questo che è importante c'è la maggiore qualità che ci sarà in campo che il Napoli porterà in campo quando avrà a disposizione tutti ovviamente sperando che la Nigeria faccia presto uscirsi domani alle ore 18 domani alle ore 18 Nigeria Angola tutti si fidiamo Angola Sì ma con la grande dobbiamo essere anche onesti intanto Angista è tornato quindi Angista informazione c'è Gerardo noi abbiamo fatto queste informazioni lo ribadiamo soltanto sono indicative Sì per confondere le idee anche di Mazzari Per i modi avete proprio il 352 l'avete proprio buttato proprio ormai a mare cioè è andato secondo me più che altro l'avete esaminato tutti quindi a questo punto io approfitterei per andare a casa da chi ci sta seguendo per chiedere a loro a questo punto con questo mercato che ormai abbiamo detto ci siamo messi alle spalle con queste partite che abbiamo già visto e la varietà tattica di cui parlava anche Francesco Modugno quale modulo scegliereste ora per questo Napoli un quarto d'ora di tempo per votare il nostro secondo instant quiz quale modulo schierereste non soltanto con il Verona domenica ma a partire da Verona per le prossime diciamo giornate della campionata l'avremmo promesso Gennaro che avremmo coinvolto gli amici a casa immagino che ci sia anche un un clamoroso una clamorosa partecipazione per il primo instant siamo andati non forti di più secondo non ho dubbio sui voti adesso esprimetevi sui voti io mi fermo un attimo così faccio bere un goccio d'acqua a Rambaldi che già ha dato molto voglio dire e quindi ho fatto bene a puntare sul Rambolo sapevo che ci dava questo supporto tecnicistico alla situazione e voglio salutare perché stasera non è presente aveva degli impegni un po' particolari personale non poteva venire lo perdoniamo il nostro amico Nicola Schiano Automobili lo sentiamo per i suoi preziosi consigli ma torniamo subitissimo tra poco per approfondire il discorso di questo Napoli gioca gioé come a che gioco giochiamo già è finito c'è un momento stavo bevendo un po' d'acqua grazie Nicola ti aspettiamo ovviamente giovedì prossimo perché dovrai anche tu esibirti nei duetti di Sanremo qui a giochiamo di anticipo i duetti saranno Arpaia Marolda i duetti i duetti di Sanremo giovedì prossimo dobbiamo fare i duetti scusate a Sanremo ci stanno i duetti giovedì è la serata di duetti io già so con chi duetterai guarda non l'ho solo immaginato io a sorpresa vi dirò con chi duetterò eh lo solo guarda l'ho immaginato perché a me hai appioppato con tutto il rispetto per il maestro hai appioppato Ciccio ci sarà poi Modugno lo appiopperai con il prossimo ospite che avremo diciamo se è Rambo ci sarà Rambo se è Nano quindi tu fai Albano e Romina lo so io farò il duetto con Romina ma ti dice anche che è questione di anzianità no è una questione io farò il duetto con Romina io Albano e con Romina ci sarà un duetto felicità felicità faremoci felicità felicità è tua però bisogna dire anche a Romina ma Romina vedrai che lo farà allora questi sono i duetti di giovedì prossimo ma noi andiamo avanti perché abbiamo ma che volete dammi ragazzi ma che giovedì prossimo stasarremo dobbiamo inventarci qualcosa perché sennò voglio dire sperando che tutto vada bene ma noi vinciamo con Verona sì sì con Verona vinciamo sì con Verona Verona ha cambiato 777 giocatori 5 partite devi fare 13 punti quante partite 5 partite 13 punti c'è il calendario 4 vittorie un po' di calendario per favore grazie io vado stasera vado a volo c'è il Milan devi andare lì e non perdere calendario grazie vai col calendario scusatevi regia ma io stasera devo seguire questo fiuto questo talento dei nostri amici che ci stanno praticamente dettando la trasmissione momento spalle al muro lo vediamo dopo o è questo no questo è quello del Navo facciamo il calendario comparato così abbiamo tutte 5 le partite che diceva Rambo fate quello che volete chiaramente la prossima c'è il Verona poi come diceva Rambo ci sarà questa trasferta a Milano o nel Milan che del miniciclo è un po' l'impegno chiaramente più proibitivo quindi Rambo dava per scontato che potesse uscire un mix che fa bene vorrei soltanto segnalare Genoa Cagliari Sassuolo che in mezzo c'è anche il Barcellona sì chiaro questo è il campionato e questo come è la più scarsa di queste su Barcellona faremo un focus la settimana prossima perché attenzione non sottovalutiamo la situazione al di là della Champions che tu parlavi del mondiale per club adesso noi vogliamo fare sta cosa il Barcellona il Napoli il Barcellona non c'è Ferran Torres non c'è Jean-Felix non c'è Gabi non c'è Andoschi è stato fuori pertanto ragazzi il Barcellona non è l'allenatore per quello non bisogna fare un passo indietro per quello è andato avanti Mazzari ha dato un'identità un'impronta diversa i giocatori si sentono più sicuri fai rientrare i leader i giocatori veri e poi questa squadra diventa veramente con grandi grande qualità per me è una squadra forte se andrà avanti in questa in questa maniera se cambia vuoi la lista? la lista Champions? no no ci arriviamo gli disponibili di Schiavi io ne ho ricordati quattro a memoria Ter Stegen Martinez Pablo Gavi Marco Salonzo Alejandro Balder Rafinha Joao Felix e Sergi Roberto cioè Sergi Roberto il portiere Ter Stegen non c'è Ter Stegen uno dei più grandi giocatori con i piedi dei portieri non c'è Ter Stegen non c'è Joao Felix non c'è Ferran Torres non c'è Gabi il più grande centrocampista della Spagna cioè ragazzi devi guardare te stesso devi guardare te stesso è un'opportunità adesso intanto devi vincere col Verona e dare continuità pensiamo a Verona verona vale Barcellona però Rambo io ti tornavo posso? perché mi era venuta questa cosa la credibilità di un allenatore è sicuramente determinata e sostenuta quando sei portatore delle tue idee quelle calcistiche di Mazzara lo sappiamo da sempre sono quelle di di un sistema a tre e quindi in tal senso ci sta anche se lui ha dichiarato che giocava a quattro però secondo me la credibilità di un allenatore è anche quella di capire di capire che in certi momenti si può anche variare si può anche cambiare assecondare magari quelle che sono le sue nuove idee e intercettare quelle che possono essere le esigenze i bisogni l'attitudine di una squadra di un ambiente di una storia io continuo a dire ma Zari credo che abbia parlato a lungo con i giocatori e che i giocatori abbiano espresso anche dei gradimenti verso il sistema o un altro secondo me quando Francesco dice intercettare penso che voglia dire proprio questo ma se si arriva anche ad un sano come è giusto che sia a certi livelli confronta ad una convergenza di idee di opinione avendo ripeto il sistema a tre a cinque che resta una soluzione probabilmente il Napoli giocherà ancora così non lo so ma se da due giorni un allenatore sta lì e rimette mano anche ai quattro vuol dire che ha capito vuol dire che ha capito che no te lo voglio dire lui è o è così eh ma sarà così però se si ha provato a quattro ha provato a quattro scusami scusate un attimo ormai nelle partite ci sono più partite nella partita la posizione il ruolo lo determina la posizione in campo del giocatore non è che se io dico al giocatore oh giochi con l'otto mezza la destra e sta lì tutta la partita non è così più il calcio lo dici a me è diverso allora ti sto dicendo parti da questa posizione 3-4-3 3-5-2 ma poi basta che cambi una posizione di un giocatore diventa un modulo diverso allora ti sto dicendo provare a quattro a cinque a cose dai dai dei principi delle nozioni ai giocatori tu devi fare quel tipo di idea di calcio perché sei credibile in quello poi i giocatori sono un po' tonti tra virgolette vi faccio questo esempio vai vi faccio questo esempio vai allora non a livello tattico ma a livello di preparazione fisica Zeman ci dice facciamo il precampionato i mille i famosi mille no? facciamo i mille cavoli 10 voti 10 voti durante il campionato alla Lazio durante il campionato dice facciamo i mille e facciamo i mille io ho provato io da allenatore a fare la stessa cosa con dei giocatori al settore giovane della Lazio facciamo non gli dico facciamo i mille perché faticano di più a livello mentale gli dico ragazzi oggi facciamo tre giri di campo e mezzo in quattro minuti va bene al quarto chilometro qualche intelligentone si sveglia ma mi se sono i mille è bravo deficiente è questo il discorso entrare nella testa dei giocatori non dicendogli tutto ma facendogli arrivare dei messaggi di Lorenzo possesso palla vanni a fare ma torni sempre là però se parliamo di pallone la cosa è avere tre con di Lorenzo e ti dico può essere sì quella è un'opzione ma ci può anche stare che ti posso dire l'avvocato del diavolo che dice oh questo è il migliore esterno di fascia d'Europa meglio che faccia il quinto eventualmente è una cosa avere i tre con Ostigard hai voglia di dire hai la possibilità con questi giocatori di far giocare i più giocatori in più moduli puoi giocare tra i 5 e i 2 se tu hai Mazzocchi che ha passo e gamba di fare tutta la faccia perché non posso sfruttare di Lorenzo centrale in alcune partite dove mi diventa centrocampista ma perché non lo devo fare ma è chiaro ma è chiaro non è che deve essere venite tutti quanti da ciccio 3 e mezzo quindi con 3 e mezzo risolvi qualsiasi ma anche 2 e mezzo scusatemi ma in tutto questo 2 e mezzo che dico scusatemi io poi volevo sapere ma in 6.000 magari Balda Nino Bic si può fare in tutto questo i 6.000 non lo so però però io devo sapere una cosa prima che arrivano gli altri amici che dobbiamo salutare in tutto questo il povero Demme scusatemi Demme fuori Demme fuori posso titolare scusa posso titolare Demme fuori ma non è ufficiale ma aspetta aspetta un atto io fammi cambiare perché io voglio fare proprio una cosa fatta per me c'è sta Demme fuori c'è sta Demme fuori invece lo mare fuori c'è sta Demme fuori si sta impazzando mare fuori Demme fuori mare fuori Demme fuori ma sto povero Demme dico io che è stato premiato con un bacio da Mazzardi quando è uscito con la Lazio rischia qualcuno che secondo me di stare peggio altro che Demme ma vuoi dire pur Zerinsky va fuori perché Demme Demme ormai Demme sono due anni che è ai margini del progetto ci sta secondo me è molto è molto più roboante eventualmente fermi fermi Gennaro illuminaci per favore illuminaci con questa lista partiamo dalla lista della Serie A premettendo che domani a mezzanotte i club hanno l'obbligo riflessione salvate il soldato Demme i club hanno l'obbligo entro le 24 di domani 2 febbraio di presentare sia la lista aggiornata Serie A sia la lista aggiornata per quelle che ancora sono in Europa i canoni dell'Europa chiaramente sono diversi perché si possono modificare tre pedine rispetto alla prima lista presentata in estate in Serie A come vedete c'è questa suddivisione con 17 calciatori che possono essere over 22 4 over 22 del vivaio italiano 4 dal vivaio Napoli e poi gli under 22 che in Napoli sono i Dasi a Crusso ma soprattutto Nathan e Kvaraschelia ancora per quest'anno poi dall'anno prossimo si vedrà nei 17 chiaramente c'è la modifica più importante perché Dendoker Traorema Zocchi e Ngong rientrano tutti da quel lato lì e chiaramente con le cessioni già operate restava un posto da occupare ed è stato quello di Diego Demme perché è lui che lascia la lista che può andare via e che quindi fa entrare in gioco i quattro uno che acquiste cioè Demme è fuori cioè Demme che fa sta sei mesi cinque mesi qua e che fa si allena e perché cosa ha fatto gli altri anni e vabbè Rambo sono due anni il romanticismo ci sta perché per i tifosi adesso che ha giocato ha messo il cuore però ci sta la scelta io ho grande rispetto di Diego ma grandissimo rispetto però secondo me non è neanche la notizia esatto non è neanche la notizia Demme fuori perché gli altri anni che ha fatto non è la notizia sono due anni che è ai margini ai lui perché parliamo di un giocatore di livello capitano dell'Ipsia che ha lasciato la Bundesliga capitano dell'Ipsia per venire a giocare ma sono due anni che è ai margini e sono due anni che non si è neanche trovato una soluzione di mercato perché magari non gli è stata prospettata ma magari anche lui ha fatto delle valutazioni l'ha rifiutata anche qualcuno a me dispiace molto per Demme credo che non ci sia non ci sia no non ci sia una soluzione diversa devo dire che a questo punto Demme deve solo allenarsi bene e in questi mesi trovare una squadra e andare a parametro zero e tentare l'ultimo che troverà ma chi tireresti ti faccio una domanda a te no aspetta no a te a quelli che sono ovviamente tipologi romantici traorei come sta ti tireresti fuori dalla lista perché uno lo deve tirare fuori traorei traorei come sta traorei c'è la possibilità che venga già convocato col Verone esatto questa è una bella notizia e Zelischi Zelischi rischia di essere fuori dalla lista Champions secondo me la cosa più significativa resta questa cioè io col Baccellolo non devo giocare con Zelischi questo sarebbe sarebbe un peccato mortale c'è questa questo non l'eventualità questo rischio questo pericolo c'è però sarebbe un peccato mortale la possibilità la possibilità perché la lista la lista si definisce domani entro mezzanotte quindi abbiamo tutto il tempo per valutare la riflessione ad una scelta ad una scelta che resta chiaramente profonda e che merita più di qualche riflessione però Zelischi Den Donker e Demme rischiano di rimanere fuori dalla Champions Den Donker ci sta Don Dica Don ci sta fuori Zelischi sarebbe veramente la notizia Don e sarebbe un autogol secondo me per l'esperienza di questo giocatore lo sfrutti fino a giugno lo sfrutti perché c'è bisogno di lui della sua quantità c'è bisogno di Zelischi di quello visto nelle ultime partite mi devo fermare mi devo fermare un attimo perché c'è uscito un coso grande così una lavagna enorme una lavagna enorme che devo lanciare addirittura Sara ma chi? Sara è stata Sara che mi ha detto si è presa si è presa la lavagnetta in mano Andrea Amato e ha scritto che dobbiamo fare il mini spot Tufano e quello di ad hoc Cash & Carry un minuto un minuto e torniamo perché le mie curiosità e soprattutto quelle degli amici che stanno scrivendo c'è Arpaia che non l'ho mai visto così assorto dentro al che sta succedendo oggi vanno forte per esempio Gianfranco guardando il video di prima ci dice scusate ma a questo punto giriamo 5-5-5 famoso 5-5-5 non escludo che possa farlo vedere tra poco Tufano e poi ad hoc Cash & Carry proprio un minuto torniamo subito ecco Longonghi la domanda era con questo mercato invernale che è stato fatto operato e che ormai è già alle spalle da 2 ore e 2 minuti quale modulo schierereste per questo Napoli da qui alla fine di questa stagione qual è il modulo più giusto se il maestro Rambaudi ha convinto le opzioni erano quelle che abbiamo visto in grafica quindi 3-5-2 3-4-3 e 4-3-3 un modulo ha vinto con il 51% dei voti quindi si è preso una percentuale su 3 quasi bulgara ed è il 4-3-3 quindi i tifosi continuano a vedere questo come modulo che può far bene a questo Napoli con anche il mercato che ormai è alle spalle con i 4 difensori che sono sempre rimasti va bene io invece dico Rambaudi mi ha dato un consiglio i 4 dietro non mi garantiscono l'efficacia che mi dà dal centrocampo in su indietro mi mette sempre a rischio ogni traversona che arriva ogni palla difendersi scappando all'indietro domanda mister Rambaudi si prego mettiamo per ipotesi si per ipotesi per ipotesi occhio alle parole per ipotesi ha detto che col Verona il Napoli dovesse giocare avendo sempre la linea 3 come una soluzione 4-3-3 fermi 4-3-3 con Anghissà e Caciuste tu vuoi dirmi che si fa fatica a trovare equilibri eventualmente nella fase di non possesso palla avendo due mezze ali che di fatto sono due mediani che hanno tale struttura fisicità centimetri colpo di testa un discreto dinamismo secondo me certi equilibri li puoi trovare lo stesso ascoltami lo botto che è in mezzo aspetta il modo di difendere con lo botto che ha 4-3-3 ci sono più modi di difendersi io se mi difendo e gli dico lascio giocare loro fuori dall'area di rigore avversaria li indirizzo sugli esterni e ci andiamo e ci può stare che si fa bene il problema è quando si difende che arrivano sugli esterni e crossano dentro l'area di rigore è lì che non mi garantisce l'efficacia della tattica individuale dei marcatori state canta hai capito a quel punto non sarebbero più tre fermi tutti ma chi me lo c'è è più i difensori non sarebbero più due formazioni che possono giocare col Verona cambio cambio scaletta cambio cambio il Verona invece di farla lo facciamo subito fatemi vedere il 3-4-3 il 4-3-3 come giochiamo contro il Verona a questo punto a che gioco giochiamo ecco qua questo qual è questo è il 3-4-3 vai Gennaro com'è che eventualmente potrebbe vedere di nuovo Rachmanio Stigart Vangesus nella difesa di Lorenzo alto a destra Mario Rui a sinistra con Angissà e Lobotka al centro visto che Angissà è recuperato in attacco non ci sono assolutamente dubbi perché con Politano e Kovarrascheli gioca Simeone allora secondo voi questa è la formazione molto probabile che possa giocare col 3-4-3 secondo i dettami rambaudiani io contro il Verona preferirei io personalmente la scelta che faccio di giocare di Lorenzo dietro questa partita poi gli altri le andiamo a vedere di Lorenzo al posto di uno di Osticard diciamo così e Mazzocchi a destra però lo schema è questo tu Francesco sei perplesso ti vedo perplesso perché sei perplesso? perché faccio faccio la cronaca che medio forse mi si addice per mestiere sono due giorni che si è rimesso mano al 4-3-3 siamo a giovedì c'è venerdì c'è sabato oggi per esempio sono state provate entrambe le soluzioni io dovesse il Napoli giocare in casa contro il Verona 4-3-3 non sarei sorpreso ok Ciccio avendo recuperato mi aggiungo avendo recuperato vediamolo vediamo il 4-3-3 grazie grazie regia 4-3-3 cambiò cambiò eccolo qua 4-3-3 Di Lorenzo semplicemente scala più indietro Mario Rui che toglie il posto a uno dei centrali anche sa che è tornato ma sta tutto là sta nella posizione che è un giocatore più avanti eventualmente per me Cagliusto Cagliusto e Nonsierischi Cagliusto oggi guarda come sta soffrendo Rambaudi guardate come soffre Rambaudi in questa situazione perché ho dato ho fatto dei passi davanti l'allenatore facendo cioè te sorprenderebbe se Mazzari giocasse così e ci vede adesso Walter chiama così analizziamo la partita qua mister chiama chiama così Mazzarrone secondo Rambaudi dovresti rimanere attrito ma te lo dico per una versione te lo passo un attimo magari stai facendo zapping mister trasmetti il 3 il 3-5 e il 3-4 lo trasmetti tu sei tu l'inventore di questo modo quindi è giusto che trasmetti il giocatore mi ha attaccato no 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 mi ha attaccato perché mi ha attaccato stava dicendo una cosa Walter comunque 4-3-3 lo vedi possibile lo vedo lo vedo vivo nel senso che si sta lavorando su entrambe le opzioni secondo me c'è anche la volontà fino all'ultimo di riservarsi la decisione e anche la comunicazione come è giusto che sia alla squadra ma pezzi rischio ti avresti scioccato no Rambo è rimasto scioccato io non io boccio mazzaro perché non mi pongo questo problema così assillante 3 o 4 le dinamiche di una partita però non ne fa una questione Rambo ne fa una questione di principio no 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 io faccio una questione di equilibrio e di valorizzare le difensioni che hai che non sono eccelsi ma in questo contesto in questo sistema di gioco diventano degli ottimi giocatori e la squadra ne sente beneficio più coperta più compatta sa giocare quel tipo di calcio ha riconosciuto certi principi di gioco dell'allenatore e non è dire non importa 4 o 3 no importa per me c'è una discriminante il non possesso scusa i 4 restano lo botto che si abbassa e spesso si abbassa in mezzo in mezzo e due centali ma è alto un metro e mezzo mi arriva un cross dall'esterno vado in difficoltà i tre difensori mi coprono l'area di rigore bene tutti e tre più i due esterni che si abbassano a non far cross più anghissà che c'hai a prendere una seconda parla perciò magari c'hai anghissà e caciusto ti dici il mio dubbio non è il mio dubbio quello ragazzi però poi dopo se mi si abbassa un attimo fa hai detto lo botto che è bassa non le prende e ti sto dicendo c'hai caciusto ti sto spiegando ti sto spiegando perché se tu dici che mi si abbassa anghissà mi si abbassa caciusto a prendere l'area di rigore poi il cross può essere rettato arriva uno che ti calcia da fuori ci sono tante virgole e ma nel calcio in serie A è questo devi guardare queste cose non è che puoi lasciare nulla al caso ma chi la lascia nulla al caso al caso non si lascia niente io ti dico una cosa che secondo me la vera discriminante per torni indietro non va bene l'unica vera discriminante io domenica le due devo chiamare a Rambaudi appena esce la formazione devo chiamare a Rambaudi perché devo sapere che cosa è successo la discriminante secondo me eventualmente è Di Lorenzo perché poi ho giochi a 4 ho giochi a 3 la posizione di Di Lorenzo è determinante perché i tre con Ostiga Dracamani e Juan Jesus sono una cosa i tre con Di Lorenzo sono dentro è tre ore che sto dicendo quella è tre ore è quella è l'unica è l'unica vera discriminante perché non parliamo di calcio balilla che sono fermi esatto Gennaro vedo veramente mai te lo giuro ho fatto 777 puntate li giochiamo di anticipo non ti ho mai visto con la testa dentro al telefonino c'è Angelo che per esempio ha votato per il 4-3-3 ci scrive che poi è un po' tutto relativo il modulo lo fanno i giocatori che scendono in campo Mazzari non è statico integralista diciamo che sulla carta un 4-3-3 può essere interpretato in diversi modi Luigi Samuel Venturi che ci scrive sì però al di là dei numeri e dei moduli nessuno mette sul piatto la condizione fisica come sta questo Napoli perché anche Mazzari aveva parlato di un richiamo di preparazione fatto Massimo Giusti invece fa notare a Rambo che il Napoli si gioca col 3-4-3 o col 3-5-2 perde un uomo a distacco o a centrocampo o in attacco è vero che è una rossa di qualità e a questo punto ti converrebbe sfruttarla tutta perché perdo un uomo se giochi col 3-5-2 perdi un esterno posso dire perdi un esterno offensivo Politano per dirti e Politano ascoltami ascoltami io è questo che se io posso anche giocare col 3-5-2 perdo Politano perché non mi sta rendendo perché in settimana mi ha fatto incazzare perché ha fatto rinnovare il contratto si è rilassato tante cose non mi interessa non voglio giocare con Politano voglio giocare con Quara che mi parte da centro-sinistra e Osimen centrale bene io ho un giocatore che è molto bravo a invadere l'area di rigore uno è il Di Lorenzo che mi parte da dietro perché lo vediamo sempre là e l'altro è Anghissà che non sai mai dove si trova che si butta dentro quindi lo spazio lasciato tra la punta Quara che si accentra tra l'esterno e Simeone o l'esterno e Osimen c'è quello spazio che Anghissà me lo deve andare ci provo durante l'allenamento gli faccio fare 3-mila corsi in quella posizione oltre Di Lorenzo che si aggiunge e mi diventa lui anche come l'ha fatto l'anno non è che me l'invento io come l'ha fatto l'anno scorso posso dire una cosa c'è tutto un mito quando era Domazzarri lui da gran signore non l'ha mai detto ma forse noi giornalissimente possiamo dire che quello era un Napoli atleticamente messo in grande difficoltà l'ha ripreso sicuramente però la storia però la storia del è colpa mia di Pondrelli che abbiamo caricato in settimana signori era un atto un atto dovuto no no un atto di grande per scaricare la squadra la responsabilità si è assunto un jacuzzi un atto di grandissima signorilità un modo per proteggere la squadra però ci ha lavorato fisicamente si ha fatto da scudo si è preso le colpe lui e Pondrelli ha cercato chiaramente di alleggerire le pressioni è vero il Napoli arriva a fine partita adesso non c'è mai arrivato domanda che faccio è proprio questo se si è preso le colpe lui e non ha fatto un tipo di lavoro forte ci può anche stare bene ma secondo me ha lavorato forte perché i risultati si è preso le colpe l'ha fatto per proteggere la squadra e non aveva lavorato durante la settimana ma non è che la partita l'avevi persa per gli eccessivi carichi di lavoro però da padre di famiglia da allenatore di livello ha coperto la squadra ha protetto Arpaia Arpaia fammi sentire un po' voglio sentire che qua la situazione è caldissima il tra poco si però Mazzari ci deve chiamare tu c'è chiudi il tre e faccio come ci chiamo chiamaci stava soltanto Rambo stava dando un suo parere Giuseppe Tarallo ci scrive con tanti calciatori offensivi che abbiamo non possiamo non giocare 4-3-3 Massimo Giusti ci scrive la difesa a tre però è da calcio provinciale questa è un'altra credenza che va avanti Filing Amalfi ci scrive nel 3-4-3 va bene di Lorenzo però soltanto si gioca da esterno alto quindi non come come braccetto vorrei dire a quello che li perdi gli uomini in attacco 3-4-3 non li perdi gli uomini in attacco ce n'hai sempre tre e poi tutti gli uomini che hai a disposizione quali sono? Simeone che gioca al posto di Osimene o il vice e poi Raspadori che non sai dove è posizionare ma che fine ha fatto Raspadori? scusi ma Raspadori questo giovane Virgulton appena centravanti nella nazionale italiana si ma anche lì lo vuole De Zerbi che De Zerbi lo vorrebbe Al Brighton? il mercato è finito per quello lo vorrebbe Florestano Michele per esempio ci scrive ma per Demme ci sarebbe ancora la possibilità di andare eventualmente all'estero? Turchia Svizzera Croazia ci hanno ancora il mercato aperto forse qualche gioco c'è qualche mercato aperto in Sud America ad esempio fino a marzo può andare tranquillamente non penso che ti rispondi è un'altra leggenda la difesa a tre a tre pure Guardiola qualche volta ci ha giocato ci gioca non mi sembra molto provinciale ho visto giocare come stai guardando a Belicu? hanno scritto gli dico io come gioca Guardiola inizialmente parte da quattro ma poi il terzino destro si accentra Guardiola si abbassa e giocano i tre però c'è Vittorio che fa la conta dei punti che servono per arrivare quattro ho visto giocare a tre a Inzaghi l'ho visto giocare a tre ma quello Zaccheroni ma in fase dipende come ci si difende è quello anche ormai si è diventato così si deve essere bravi a inculcare ai giocatori certi principi ti puoi dici parti a tre difendo a tre barra cinque sì ma se poi un centrocampista mi si alza io ti imposto da due il male di questa stagione nasce dall'ossessione del dobbiamo giocare quattro il famoso cartacarbone è successo il cartacarbone è il male della stagione ma mica l'abbiamo dici che nel quattro e tre mi hai rotto le balle adesso nel quattro e tre e che cacchio e lui cambia oh ma veramente è zero a zero e poi fa cosa è zero a zero è zero a zero come Lazio-Napoli mi hai rotto le balle fino a due minuti fa Vittorio Pianese ha stilato il ruolino di marcia del Napoli per il quarto posto 17 partite che mancano 10 vittorie 5 pareggi e 2 scompetta chi è? solo Vittorio Pianese 37 punti 37 punti no 35 punti perché 10 vittorie 5 pareggi e 2 sconfitte 35 e 31 36 32 32 67 67 67 è quota 67 è quota media partita scusami l'Atalanta ne ha giocate 21 non 22 no no uguale a Napoli 21 anche ne deve recuperare con l'Inter no? sì esatto 28 si si ce l'abbiamo qui le medie ecco qua solo la Roma 22 la proiezione quest'anno al quarto posto è più bassa rispetto agli ultimi anni di parecchi punti dai 72 8 di media quindi quasi 73 si passa eventualmente ai 65 punti per la proiezione ma in questo momento il Napoli avrebbe una proiezione superiore ai 57 e mezzo arrotondiamo a 58 quindi per fare per arrivare a quella cifra lì dovrebbe fare di media nelle ultime partite che mancano di questo campionato almeno due punti per partita non deve andare tanto oltre fai un miniciclo che queste cinque partite che rimangono intanto la prima col Verona perché tu vinci ci sono gli sconti diretti la media c'è Atalanta-Lazio c'è il Roma che gioca col Cagliari in casa e non è che se la porta da casa secondo me e quindi questa partita diventa importante uno per dare continuità alla prestazione al risultato di Roma e per guadagnare punti sullo scontro diretto la media quarta posta è 66 65,4 tanto fai queste cinque partite vincile tutte con quelle medio basse continuiamo un attimo solo gli amici del gruppo Autoscala che vogliamo salutare un minuto torniamo perché devo approfondire la questione media punti con Marolda che sta facendo tutti i calcoli ve li facciamo vedere con la Corsa Champions vediamo anche le altre dove giocano il prossimo turno poi chi resta l'anno prossimo che succede con i contratti è il contratto di Guaraschelia e Osimena che torna però poi se ne va Autoscala siamo pronti gli ultimi anni gli ultimi anni però però scusatemi torniamo subito che poi voglio vedere il prossimo turno sì ma che stai leggendo ma quanti messaggi stanno arrivando è la fidanzata scusate ma non è la fidanzata non chiamerebbe mai la fidanzata durante il programma stanno arrivando un sacco e soprattutto tanti stanno anche commentando sai che noi poi durante la trasmissione postiamo le parole dei nostri ospiti nel parterre sulla nostra pagina quando ha parlato Rambo? quando ha parlato Rambo hanno votato in tanti hanno commentato in tanti tipo Giovanni scrive Rambaudi ha ragione ma dite a Rambo che a Napoli si vive spesso di ricordi penalizzando il presente quindi una lettura filosofica la questione mobile però a Napoli adesso il vero obiettivo siccome io parlo e dico le cose sono convinto di quello che dico per me Napoli deve guardare adesso deve guardare il Verona e deve guardare che al più presto recuperi quei giocatori che ha detto Ciccio ed è una squadra più forte delle altre con questo sistema di gioco poi fai delle varianti il di Lorenzo che di Val queste sono cose da campo non è che dici 3-5-2 tutta la partita 3-5-2 è una grande cagata questa allora il discorso ci sono delle grandi una cagata pazzesca e secondo me una formazione che al Napoli con metti i gollini Meret con Di Lorenzo se quando vuoi giocare che crea superiorità ho i tre difensori Mario Rui Di Lorenzo Mazzocchi Lobot Kanghissà Osimene Quara Polità ragazzi è tanta roba per quello di andiamo a fare quindi per dico queste partite non c'è mai stata quasi la squadra al completo così non è mai stata quello è il problema quindi ti sto dicendo il mercato che è stato fatto poi aspetta il mercato è stato fatto intelligente secondo me in alcuni uomini non hai più il Losano dell'anno scorso che è partita inoltrata te la spacca ci hai preso un gong e sentiamo un gong sentiamo il gong che ti entra durante la partita Traoré si è recuperato fisicamente bene è un giocatore che ti spacca le partite le avversarie con palla al piede senza giocatori importanti funzionali funzionali quello è Rambo 1 questo è Rambo 2 poi c'è Rambo 3 Rambo 4 ce la stanno facendo su Sky tutte le gong hai dato 6 ma io posso io ho dato 7 lunedì però ho detto se il difensore era ma 6 è un ottimo voto per te sì per i tuoi voti sì 6 no l'ho dato 6 mi sono fatto condizionare da Francesco Modugno perché se torna a 4 gli do 6 e quindi gli do anche 5 a Mazzari se torna a 4 domenica i voti di Rambo di dopo gli do 4 se torna a 4 calma perché lui è credibile è forte a inculcare certi concetti e i giocatori lo sentono secondo me diventa ancora più credibile se riesce oh hai detto prima non ti smetti di nuovo aspetta io ti sto dicendo hai detto prima 4 del 3 è il male è il male del Napoli è ancora più credibile se ha se ha la lungimiranza no la voglia il piacere di cambiare ritenendo che magari con quel materiale a disposizione può mettersi una volta a 3 e magari col vero a 4 ma è ricchezza Rambo è ricchezza questa oh hai detto il malessere prima adesso è ricchezza fai pace col cervello perché qua dici cose non sensate ma tu non hai notato che li ha fatti giocare tutti e 25 non partire a 4 non partire a 4 non devi partire a 4 perché se no non sei credibile ma allenarli per uno che si muove e poi diventano a 4 senza dilinetto è come i millimetri fai 3 giri di capo e mezzo ti aspetterà ti aspetterà qua fuori Mazzagli i tre e mezzo i tre e mezzo però c'è uno c'è uno dei giocatori che rientra dopo la squalifica chi è? Quara sto parlando di Quara oltre al Ciolito però Quara voglio dire su Quara Caciusto sì ho capito che gioca Caciusto al posto no anche Caciusto sì ma io sto parlando di Quara voglio parlare della questione voglio parlare della questione contrattuale perdonatemi perché in tutta la situazione abbiamo sviscerato l'aspetto tecnico il Verona le cose però continuano ad arrivare segnali adesso abbiamo letto poi abbiamo riletto e io vorrei chiedere veramente vorrei chiedere almeno Quara Quara resta con me almeno tu almeno Quara cioè Quara almeno tu resta con me perché l'altro non resta Osimena abbiamo sentito il Presidente l'altro non resta ci vorrebbe una canzone ma quando arrivi quando torni quando torni ma almeno Quara Francia almeno Quara cioè voglio dire mi devo mettere mi metto paura pure di Quara adesso perché ci metti 12 secondi per rispondere perché stai cercando come rispondere di contratto Quara perché anche qui anche qui secondo me prima dice no c'è una discriminazione secondo me c'è un aspetto che noi trascuriamo qual è? è la necessità economica e tecnicamente diciamo programmatica di andare in Champions cioè certi calciatori se non fai la Champions io faccio il rinnovo a Quara corposo e conguro se vado in Champions no no io ti dico che se non vai in Champions ma tu sai quante lusinghe quante di conseguenza tentazioni avrà questo ragazzo perché se se bussano alla porta e ti dicono guarda che io ti do il doppio il tribo di quello che prendi ma tu sei sotto contratto come fai? sì il doppio il tribo di quello che prendi comandano i calciatori vieni da me e fai la Champions che lì non fai comandano i calciatori poi diventa complicato dire a sto ragazzo oh aspetta poi magari tra un anno o due te ne vai ciccio comandano i calciatori posso aggiungere ciccio che se eventualmente il Napoli non dovesse andare in Champions è anche causa di prestazioni come quelle che ha fatto vedere qua la schede ma il calcio è uno sport di squadra quindi come si chiede l'aumento poi che si fa? si va a chiedere il taglio ma nessun calciatore quando gli ha fatto il discorso vedi quello a nessun calciatore il procuratore di Quaraschelia sta pronto là per fare per chiedere l'impossibile al Napoli ovviamente attaccandosi a 10 milioni di Osimè fingendo di non capire che quei 10 milioni servono solo per la causa ma Quaraschelia in questo momento se vuole avanzare delle pretese deve andare in campo e deve giocare non deve fare il Quaraschelia negli ultimi tempi perché quello vale per quello che prende se vuole di più deve giocare meglio molto meglio deve pigliare lui in questo momento che non ce lo si mette però ciccio chi lo vuole chi lo vuole sono tante sanno che il Quaraschelia non è questo qui ma è quello lì e allora conviene che non giochi bene per abbassare il prezzo questo no questo è una città no allora Zenischi chi lo pre chi vuole chi vuole Quara lo vuole perché pensa a quel giocatore lì ma certo quindi sarebbe più giusto fare un'altra stagione a Napoli dimostrare dopo l'esploit le difficoltà che pur sono fisiche dimostrare di essere quel giocatore lì forte nell'anno della consagrazione e poi eventualmente ma ci sono un toglie che il contratto vada ridiscusso no io da anni che propongo questa cosa so che con i giocatori non è facile ma secondo me una società dovrebbe pensare trovare le condizioni giuste giocatore ha anche il contratto ad obiettivi perché tu fai il contratto ti sta bene firmi tutto quanto poi vai bene e il procuratore arriva e chiede l'aumento bene però se io ti faccio contratto quel contratto tu vai male mi dai soldi a merda quello che diceva Gennaro quello che diceva Gennaro e non va bene Rambo si sarò calciatore però lo so ma infatti hai vissuto gli spogliatori Rambo facciamo un gioco a stimolare a motivare ok e io non ti do io guarda io ti do un milione facciamo un esempio ti do un milione bene se vinciamo il campionato andiamo in centro te ne do 4 e ci sono i bonus però nei contratti te ne do 4 sono abbastanza i bonus più la base la base seria seria va da sensazione pensate al di là del fine del quando finirà il campionato al di là dell'obiettivo premesso che voglio anche completare che il Napoli potrebbe non avere gli introiti della Champions ma avrà comunque i soldi della cessione comunque sono una base di partenza importante per un'eventuale ricostruzione del Napoli ad alto livello con un allenatore probabilmente anche nuovo le losing sarebbero tecniche di palcoscenico di piacere non sarebbero per il giocatore solo quelle economiche è chiaro che se fai la Champions tu dici ragazzo mio non ho voglia di venderti c'è un contratto lungo magari discutiamo del contratto qui fa la Champions ma che vuoi ma se non fai neanche la Champions anzi ragazzi ti potrebbe cominciare a dire ma quelli lì mi pagano di più e lì e lì gioco la Champions potrebbe essere un problema questo di qua nella gestione potrebbe essere un problema io Presidente gli direi perché chiederebbe sicuramente un contratto oneroso oneroso per il Napoli e poi per quanto riguarda se no giochi male mi restituisci i soldi allora fai non per obiettivi ma fai la partecipazione aiuti ti va ti sto dicendo nel senso che anche forse il Presidente in questo momento sicuramente farà la società si vince si dividono i soldi non si vince non si divide niente proprio in questo contesto si devono focalizzare sulla cosa più importante è classificarsi in Champions questa è la cosa più importante non è l'unico obiettivo serio che è rimasto benissimo certi giocatori fanno discorsi no ma se andiamo in Champions non andiamo io voglio andare allora Presidente non andate in Champions non andate in Champions non andate in Champions non va via nessuno lo poni come obiettivo come condizioni non andiamo in Champions non va via nessuno Gennaro vai Gennaro vai vai continua continua perché voglio sentire gli amici a casa no i commenti erano arrivati tutti quanti un po' sul mercato e un po' sulla questione modulo per esempio ancora sul mercato Cipriano Venusa ci scriveva per il numero di attaccanti e tre quartisti l'ideale sarebbe anche il 4-2-3-1 che non abbiamo analizzato preso in considerazione magari penalizzando un po' l'obo ma è più fattibile comunque la nostra necessità resta ancora oggi un difensore centrale veloce che non siamo riusciti a chiudere sul mercato ragazzi il mercato è chiuso comunque sia chiaro che è successo per il quara dell'anno scorso ci si incatena per questo qui davanti a certe offerte parliamo cioè per quello lì cioè io devo rinunciare a fine anno si vende a quella schiena no 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 prestazione alla mano se non dovesse andare in centro per il quara dell'anno scorso tu sei sicuro che sia quello dell'anno scorso al 100% no non lo posso sapere no perché qua ci mettiamo a esaltare per sei mesi però per quel quara lì mi incateno per questo qui dipende dall'offerto Gennaro come sono le scadenze oltre quara è diventato un calciatore normale questo per questo qui oltre quara di chi dobbiamo avere timore no a quara in realtà la scadenza è bella lunga perché la scadenza del contratto è il 2027 tra l'altro raggiunto questa settimana anche dal compagno Politano che ha firmato il rinnovo è in buona compagnia perché c'è Lobotka c'è Rachmani c'è Oliveira insomma tanti calciatori nel 2027 è chiaro che adesso l'attenzione si sposta al 2025 c'è Gaetano c'è Guangesu c'è Anghissà e poi penseremo al 2026 fermo restando che Osimè difficilmente lo vedremo ancora in azzurro per quell'anno devo andare in pubblicità però faccio una domanda secca a Rambaudi molto secca la risposta altrettanto altrettanto secca abbiamo sentito abbiamo fatto gli auguri e i complimenti per il rinnovo del contratto a Politano uno dei giocatori migliori a livello prestazionale del Napoli in questo periodo Politano ha un anno in più di Zelischi ed ha avuto questo meritato adeguamento contrattuale che a Politano sia a Zelischi che ha un anno in meno perché evidentemente si è arrivato alla conclusione di un rapporto da parte di Zelischi magari lui pensa di dare il massimo in campo ma inconsciamente magari non lo dà perché con la testa non c'è più magari da parecchio tempo perché anche l'anno scorso si criticava in alcuni momenti della stagione Zelischi anche due anni fa quindi l'altro è più motivato adesso io lo voglio vedere Politano siccome io l'ho ben inquadrato come giocatore è molto istintivo è molto che ragiona anche di pancia adesso che ha fatto il contratto non vorrei che si rilassasse Politano posso? dopo dopo devo andare in pubblicità e posso sentire anche a Ciccio questa cosa mi interessa molto quindi Igiene Urbana Evolution pubblicità torniamo per un finale spettacolare di Giochiamo d'Anticipo Motugno e Marolda sul rinnovo di Politano a tra poco eccoci qua ma come tengo solo 5 minuti 5 minuti e finisce a proposito di San Rino scusi dobbiamo fare tutto ci fanno notare da casa che il festival parte da Cagliari quest'anno sì perché oltre a Ranieri in panchina sì adesso c'è Gaetano che è un po' Rino Rino e poi c'è c'è un difensore che hanno preso che si chiama Mina di cognome sì dalla Fiorentina è perfetto diciamo e il telecronista è Modugno è Modugno è bello mi piace questo questa anteprima Sanremo giochiamo di anticipo non vi perdete la puntata la settimana prossima perché davvero rimarrete veramente sbalorditi di quello che potrà accadere vi ripeto vi anticipo ve l'ho già detto ci saranno i duetti in diretta e non ridere Sara la canzone scelta la Ciccio Marol d'Arpaia il duetto è Marol d'Arpaia Modugno con ospite a sorpresa ma hai saputo la canzone scelta la Ciccio no ma sai già qual è? giovedì la sorpresa domani troverai su Solis e Canzoni testi lo sottoporrà ad una prova canora di altissima ma in italiano o in napoletano? nel napoletano di Jolier la facciamo in tutto moderno diciamo va bene io poi quindi un'altra lingua sicuramente non il napoletano che conoscevo io un'altra lingua io sono suonatissimo non potrei mai fare non c'entra niente perché a Sanremo sono intonati allora vado avanti cattiva volevo finire con Marolda e con Modugno avevamo lasciato questo discorso a metà poi chiudiamo con il prossimo turno che roba è come che roba è il rinnovo di Politano perché lui si e Zelischi no perché Politano si e Zelischi no ma faccio veloce visto che faceva in pubblicità faceva una telefonata no rinnovo di Zelischi vorrei dire non ci dobbiamo meravigliare che un giocatore come Zelischi validissimo ancora sempre validissimo vada via per scadenza di contratto secondo me questo sarà un orientamento per il futuro che molte squadre adotteranno per liberarsi di contratti onerosi per liberarsi andranno via secondo me la strategia è sbagliata perché se a Zelischi si è deciso di mandarlo via adesso gli rifai il contratto l'anno scorso e ci guadagna pure qualcosa secondo me è sbagliato però ci dovremo sempre più abituare anche a giocatori importanti che andranno via a scadenza a scadenza perché Politano e non Zelischi Politano non hanno in più cioè io il Napoli giustamente non fa investimenti non fa investimenti su giocatori non più giovanissimi perché l'ha fatto Politano un po' di elementi innanzitutto le cifre sono diverse le cifre di Politano sono diverse da quelle che eventualmente avrebbe preso Zilischi i contratti e le situazioni di un giocatore che firma a scadenza e le trattative sono ben diverse molto più strutturate quando arrivi a scadenza per le dinamiche del mercato per quello che è il mercato le buone le cattive abitudini c'è l'ingaggio ci sono i benefit accessori ci sono i soldi alla firma le commissioni i bonus alla firma e quindi parliamo di operazioni completamente differenze le commissioni per i contratti in scadenza diciamo così con una scadenza prossima come quelli di Politano le firme le commissioni non ci sono c'è il riconoscimento di una commissione ma quando arrivi a scadenza commissioni bonus alla firma e ingaggio li evitano in maniera differente e poi aggiungo solo un'altra cosetta un minuto e cinquanta Matteo Politano poteva andare al Shabab o non so se anche da qualche altra parte ha scelto già in nome ha scelto di rimanere a Napoli Piotti che ha un legame sentimentalmente fortissimo con la città secondo me dopo otto stagioni l'idea di un progetto nuovo avviamo Antonio Polione va bene prossimo turno proprio flash per capire Rambo ci aveva detto degli scontri diretti vai Gennaro ecco due li sono perché dobbiamo guardare sei squadre per concludere il discorso tanto ormai anche Politano cioè il legame sentimentale forte che ha inciso anche quello anche le mattonelle hanno inciso andando avanti si comincia domani con Lecce Fiorentina che si giocherà alle 20.45 poi sabato una bella giornata ricca da Empoli Genoa delle tre insieme con Ludinese Monza fino a Frosinone Milan e Bologna Sassuolo domenica Torino Salernitano aprirà il lunch match della domenica e poi chiaramente c'è Napoli Verona alle tre che però ha il vantaggio di vedersi dal divano Talanta Lazio sperando che il Napoli chiaramente abbia i tre punti in tasca a quel punto si chiude la domenica sera con il big match di giornata che è Inter-Juventus ma lunedì per il Napoli c'è un interessantissimo Roma-Cagliari che chiaramente noi racconteremo a distanza con il bello di Cancio perché lunedì ricordiamo caro Gennaro che siamo in conclusione lunedì si torna qui in studio grazie per l'affetto l'amore incredibile sempre al Vulcano Buono ci siamo stati lunedì scorso siamo stati benissimo ma torniamo ci torneremo ci torneremo tra un po' quindi abbiamo un po' di tempo per stare qui in studio insieme anche con voi lunedì torniamo con Claudia Mercurio con la nostra splendida squadra per il bello del calcio e per commentare insieme quello che sarà Stato Napoli Verona grazie a Gennaro Arpaia voglio salutare e ringraziare anche il mitico Ciccio Marolda grazie Ciccio della tua come al solito preziosa partecipazione così come quella di Francesco Modugno che domani dalle tre del pomeriggio fino alle otto lo vedete fuori allo stadio del mare di Lecce prima di Lecce Fiorentina con un vento davvero incredibile povero Francesco dalle tre chi gioco no ma quello che si è fatto no ma quello che comincia ah comincia il collegamento Lecce Fiorentina ci stanno mai che i giocatori della Lecce Lecce Fiorentina domani sì sabato mio figlio domenica Napoli Verona il Napoli e lui di il bello del calcio il bello del calcio sta a posto sarà contentissima tua moglie saluto e ringrazio che è stata una puntata dedicata a Rambo Rambaudi grazie grazie a te di essere stato qui grazie a voi tutti con noi in maniera davvero incredibile chissà che cosa mi regala la regia come finale musicale non lo so avrei intercettato un desiderio non lo so hanno messo questa musica neutra che non gli appartiene saluto ovviamente Andrea Amato lo ringrazio come al solito per il suo prezioso contributo ricordo gli altri appuntamenti che sono ovviamente quelli di lunedì del bello del calcio martedì c'è l'infedele con Enrico Fedele con il capitano